Lei ha denunciato tantissime problematiche che hanno fatto discorso, tra questi il discorso della droga in Parlamento in cui ha detto c'è una percentuale fisiologica diciamo così di uso, anche se non è allarmistico ha detto questo uso che si fa in Parlamento però l'ha sensibilizzata a questa cosa qui. Tra le forze dell'ordine ci sono stati degli episodi anche di poliziotti che poi sono stati puniti secondo lei è anche diffuso questa cosa qui, ci sono delle pecore nere, poliziotti che facciano uso. Anche lei nella sua storia ne ha trovati in caserma eccetera o comunque che fanno uso? Il rapporto che ha presentato al Parlamento dice una realtà grave da un certo punto di vista perché sono decine di migliaia qualche centinaia di migliaia le persone che fanno uso di cocaina, di rovina, però in valore assoluto quelli cronici c'è lo 0,1% della popolazione che vuol dire che il 99,9% degli italiani non sono cronicizzati in eroina e cocaina. Le cifre sono un po' più alte per la cannabis ma anche lì sicuramente il 96-97% degli italiani non fa uso sistematico della cannabis. Vuol dire che c'è una società sostanzialmente sana e questo fenomeno è terribile perché coinvolge centinaia di migliaia di persone però è contrastabile, è una battaglia che si può vincere. Poi è vero che la cocaina che è la droga tipica più dell'eroina dei quartieri alti c'è fra i professionisti, fra gli imprenditori, nelle forze dell'ordine purtroppo anche e adesso entrerà in vigore finalmente il regolamento nelle professioni a rischio, nei lavori a rischio parlo degli autisti, parlo dei piloti. Nella televisione scusi. Sì però nella televisione un conto è un cantante è un conto avere il camionista dietro di te o il pilota dell'aereo.